Freddi Pacini il prossimo 9 maggio si troverà faccia a faccia con il PM. Per la prima volta il gommista di Monte San Savino, che lo scorso 28 novembre sparò contro al ladro che si era introdotto nella sua officina, Mirza Vitali e 29enne Moldavo uccidendolo, sarà sentito dal PM Andrea Claudiani. Potrebbe essere questo l'ultimo atto di un'inchiesta che sembra andare verso l'archiviazione. A richiedere l'interrogatorio era stato illegale di Freddi Pacini, l'avvocato Alessandra Chieli, subito dopo il deposito della perizia balistica. La consulenza, svolta da Paride Minervini, l'esperto incaricato dalla procura di Arezzo, infatti avvalorerebbe la ricostruzione dell'imprenditore, dunque la legittima difesa. I colpi furono tutti sparati dall'alto verso il basso, una traiettoria seguita anche dal colpo mortale, quello che dissanguò il ladro. Il 29enne fu infatti colpito alla coscia mentre aveva le gambe in aria, dopo essere scivolato nell'entrare rompendo un vetro. Tra due settimane dunque l'imprenditore, indagato per eccesso di legittima difesa, sarà ascoltato per la prima volta dal PM dopo che lo scorso dicembre aveva scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Poi spetterà al magistrato l'ultima parola che sulla base degli elementi raccolti potrebbe chiedere l'archiviazione del caso, l'ipotesi più plausibile oppure la richiesta di rinvio a giudizio. Nel frattempo è anche cambiata la legge sulla legittima difesa promulgata proprio in queste ore dal presidente Sergio Mattarella a maglie ben più larghe, ma Freddy Pacini sembra aver agito nell'ambito della legittima difesa anche rispetto alla vecchia normativa che ancora prevedeva un eccesso colposo apparentemente però non riscontrabile nella sua condotta.